Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha partecipato questa mattina a Pescara alla presentazione dell'evento culturale Notti della Brigante. Patrocinata dal Consiglio regionale, la manifestazione, giunta alla non-edizione, si terrà dal 2 al 4 agosto al borgo Case Troiano di Spoltore e intende raccontare pezzi di storia del brigantaggio in Abruzzo. Io credo che sia molto attuale la Notte del Brigante. Chiaramente, come tutte le manifestazioni culturali, è arricchita di tanti momenti aggregativi, musicali, interessanti che attirano all'attenzione della gente. Ma il fulcro con il quale io ho concesso il patrocinio è poter insegnare e far capire, far conoscere ciò che è stato affinché non solo non si possa ripetere, ma si possa evitare che si aggravi la situazione attuale. Per l'occasione saranno aperte le visite al Museo Documenti e Monete Borboniche e all'accampamento dei briganti e si terranno incontri con autori e visite guidate. Un programma arricchito inoltre da documentari, musica, concerti, letture, abiti begranteschi e dalla cucina dell'Italian Team Chef che proporrà una selezione dei migliori piatti con prodotti locali. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha inoltre ricevuto il passaporto di accesso a Regno delle Due Sicilie, documento simbolico che sarà consegnato a tutti i partecipanti della manifestazione.